Un consiglio di amministrazione straordinario per decidere tempi e modi per ritirare la squadra dal campionato per analizzare tutta la vicenda con particolare attenzione ai gravissimi torti arbitrali subiti nella gara Sicula-Leoncio-Gela di domenica scorsa a Lentini e sulla quale sarà preparato un dossier per la Lega Nazionale di Rattanti di Roma al fine di difendere l'immagine del club e dei tesserati biancazzurri. Si terrà sabato prossimo alle 12.30 e quanto stabilito nelle ultime ore dai vertici del Gela. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è riconducibile alla decisione assunta ieri dal giudice sportivo Aniello Merone della Lega Nazionale di Rattanti che analizzando il referto scritto dall'arbitro Alberto Catastini di Pisa è andato giù pesante nei confronti della formazione allenata da Pietro Infantino. La squadra biancazzurra domenica prossima il Vincenzo Presti con la Sarnese giocherà a porte chiuse, sempre se giocherà. La decisione è stata motivata dal fatto che durante il secondo tempo della gara di domenica a Lentini i sostenitori biancazzurri, si legge, si sono resi responsabili di avere lanciato sputi all'indirizzo dell'assistente di linea attingendolo ripetutamente alla schiena e alle braccia. Ad aggravare la posizione dei tifosi del Gela, sostiene il giudice, arriva pure il lancio, sempre all'indirizzo dello stesso assistente arbitrale, di una pietra che sorvolava la sua testa per andare a cadere successivamente sul rettangolo di gioco. La società biancazzurra, che oltre al danno di una sconvitta ingiusta maturata per alcune decisioni arbitrali discutibili ha subito anche la beffa, è stata multata di 1.800 euro e tutto questo, come dicevamo, non è andato giù alla dirigenza che per sabato ha convocato un consiglio di amministrazione straordinario.